La Sicily Bike Car Palermo Basket torna da Costa Masnaga, piccolo comune in provincia di Lecco, con la seconda vittoria stagionale, la prima lontano da casa in Serie A1 femminile. Un match condotto praticamente dall'inizio alla fine dalle palermitane di coach Santino Coppa, che chiudono sul 53-62 lo scontro diretto per la salvezza dell'ottava giornata. L'avvio di gara è deciso da parte delle siciliane, con un 9-0 di parziale aperto dalla tripla di Miccio a rompere il ghiaccio e una Gatling finalmente dominante nel pitturato. Le padroni di casa provano a ricucire, ma l'inversione di tendenza rispetto alle precedenti uscite per le palermitane arriva proprio in uscita dagli spogliatoi. La Sicily Bike Car tiene botta, rispondendo colpo su colpo al rientro delle padroni di casa e piazzando il parziale di 8-0 grazie alle triple di Flores Costa e Miccio, che ricacciano Costa Masnaga indietro di 12 punti al 25esimo. Le Lecchesi provano ancora a rientrare nell'ultimo quarto, ma a chiudere i giochi sono una tripla di Flores Costa e la penetrazione di Russo. Domenica al Palamangano, per la nona giornata di campionato, le palermitane affronteranno il fanalino di coda del torneo, la polisportiva battipagliese, ancora 0 punti dopo 8 giornate.